Questo apprezzamento di terra che vedete alle mie spalle appartiene alla mia famiglia. Qui ci troviamo esattamente tra Giovinazzo e Santo Spirito. Abbiamo a 20 metri la statale 16 bis e come vedete è un pezzo di terra che va comunque coltivato. Qui abbiamo un pozzo artesiano, questo qua, però non è mai stato messo alla pompa per cui non è stato mai utilizzato. Pesca alla profondità di 8 metri acqua dolce e qua ci troviamo esattamente a un chilometro dal mare, su quella direzione là. Qui abbiamo un campo da coltivare e in fondo abbiamo un uliveto che si estende fino a 70 metri in fondo. Uno dei lavori da fare in questa campagna è appunto di ararla, di sodarla e ci metteremo anche una recinzione perché qui è tutto aperto per evitare appunto che si diventi una discarica o comunque che vengono i briganti. Cosa che io già prevedo perché si coltiva anche per loro. Diciamo che questa terra da dove abito io è distante, circa 40 chilometri, ma farò gestire questa zona a un'equip che lavora in questo territorio e che mi daranno una mano appunto alla coltivazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.